Ben trovati gentili telespettatori nell'anno 2018, auguri a voi, alle vostre famiglie da parte di Casa Italia 2, da parte della redazione di Italia 2 TV e da parte del nostro primo ospite di questo 2018, il decano dei giornalisti del Vallo di Diano, Geppino D'Amico. Auguri anche a te famiglia, Geppino. Auguri naturalmente anche a te, alla redazione, a tutta la mia tenda, ma soprattutto auguri a chi avrà la bontà di ascoltarci. E allora ben trovati a un nuovo appuntamento con Casa Italia 2, il talk show di Italia 2 TV nel quale analizziamo e parliamo degli eventi di rilievo non soltanto del Vallo di Diano ma di tutta la provincia di Salerno e anche della Lucane e anche oltre. E ovviamente in questa prima puntata del 2018 con Geppino approfittiamo invece per riepilogare quelli che sono stati alcuni eventi diciamo caratteristici di questo anno 2017 per il Vallo di Diano. Geppino in generale che anno è stato per il Vallo di Diano? Ma è stato un anno in cui si è verificato di tutto e di più, nel senso che ci sono state tante cose buone ma ci sono state anche tante cose che buone non sono state, insomma sostanzialmente. A cominciare ovviamente dai tanti, dai troppi incidenti stradali che ci sono stati e che purtroppo hanno registrato la morte purtroppo, il decesso di tanti giovani che avrebbero meritato di vivere ancora a lungo insomma. Ecco questo è un tema che purtroppo ci troviamo puntualmente ad affrontare ogni anno, un bilancio che è sempre un bollettino di guerra. Quest'anno gli incidenti sono stati davvero tanti e anzi forse rispetto agli altri anni per pura casualità non si è trasformato in un bollettino ancora più tragico. Geppino da che cosa dipende? Ma da tante cose, la presenza nelle auto della cosiddetta autoradio che crea problemi, soprattutto i cellulari, perché io ho notato una cosa, nonostante sia stata adottata una legge che vieta tassativamente l'uso dei cellulari con ritiro della patente, vedo tanti giovani e tante donne con il cellulare in mano, cioè nessuno ha pensato, magari pochi hanno pensato magari di dotarsi di un bivavocino automobile. Quindi la prima cosa secondo me sono queste, poi c'è la distrazione, poi magari ci sono poi le vittime del sabato sera, quando è notorio che il consumo di alcol aumenta, quindi la moderazione, non dobbiamo dimenticare, non sono un tecnico, però basta un bicchiere di birra e un amaro per poter superare i limiti consentiti. Allora è chiaro che l'uso moderato, ecco bisognerebbe quando si esce fuori portarsi uno che sia a stemio e che non beva, insomma sostanzialmente. E allora prima di tutto il rispetto del codice della strada e quindi ci auguriamo che questo 2018, anche questo che è anche un problema culturale, sicuramente ci sia un maggiore rispetto del codice della strada. Parliamo un po' di queste strade poi, comunque che anche se non sono probabilmente le principali, però sono delle concause anche degli incidenti, strade con buche, strade dissestate, strade che sono talmente rovinate che la provincia di Salerno, e questa è una notizia proprio delle ultime settimane, Geppino ha fatto un'ordinanza molto particolare, la provincia dice poiché noi siamo responsabili della sicurezza dei cittadini, poiché non possiamo aggiustare le strade per carenza di fondi e per mancanza di personale, limitiamo la velocità a 50 km orali, come ti sembra questo? Che tradotto significa morso tua vita mea. Io credo una cosa che il governatore della Campania, se qualcuno gli ponesse questa domanda sono sicuro che risponderebbe è un'idiozia, perché è impossibile, è impossibile anche fuori dal centro abitato, in adiacenza di un centro abitato andare a 50 km all'ora. Io non lo so se qualcuno vorrà fare questo esperimento magari con la telecamera, per vedere, ecco io mi chiederei per esempio il mio amico Carmelo Stanzione che è sindaco di Centola, quanto tempo impiegherà per andare in automobili a Salerno? Più fortunato è Paolo Imbarato perché va in autostrada, insomma quindi può andare a... ecco però a proposito di idiozie, verrebbe la voglia di chiedere a chi ha deciso perché insomma le notizie buone hanno molti padri e le notizie non buone sono figli di... sono figli anonimi, di anonimo e allora vorrei chiedere a chi, al supertecnico che ha deciso questa cosa, ma lui è nato così o ha fatto carriera crescendo? Cioè sempre in riferimento all'idiozia di cui certamente parlerebbe il Presidente. Ecco, continuiamo ad essere figli di un Dio minore, Geppino, perché in tutto il resto d'Italia sulle strade provinciali si va a 90 km orari e noi dovremmo andare a 50 dal primo gennaio. E sono 2500 km, sono 2500 km, ma c'è da dire un'altra cosa che è negativa, il problema è che molti comuni hanno deciso per fare soldi di installare questi autovelox poi si fanno i ricorsi, cioè pensa un povero Cristo per fare un ricorso quando debba spendere, poi la legge prevede, se non ricordo male, se non è cambiata nel frattempo, che se fai ricorso e non viene accolto paghi il doppio, cioè voglio dire il povero cittadino si vede costretto a mettere mano alla tasca per l'insipienza di certe decisioni. Ecco, continuiamo a parlare di eventi negativi del Vallo di Diamo, togliamoci subito insomma questo ingombrante peso degli eventi negativi, è stata un'estate, fu un'estate da tanti incendi in tutta Italia, ma ovviamente anche nel Vallo di Diamo ce ne sono stati tantissimi, grave danno ambientale e poi le conseguenze si vedono con le frane, abbiamo visto quello che è successo a San Rufo. Beh, questo dimostra una cosa, è un danno che viene da lontano, dobbiamo dirlo, perché almeno nei decenni passati evidentemente non c'è stata molta attenzione per l'ambiente, si è costruito magari a dismisura anche dove sarebbe stato meglio non costruire, sono stati fatti dei palazzi dove magari si poteva fare soltanto una villetta uno, due piani eccetera. E allora credo che adesso in questo 2018 credo che chi ci amministra ma anche i cittadini stessi, che poi non dimentichiamo una cosa, ognuno ha l'amministrazione che si merita, per cui io credo che i cittadini innanzitutto dovrebbero rendersi conto che l'ambiente è un bene da salvaguardare. Ce l'hanno lasciato i nostri antenati, però io mi chiedo come lo lasceremo a chi verrà dopo di noi. Continuiamo con le cose negative, un dato che è uscito proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, il Vallo di Diano, Geppino, possiamo chiamarlo il paese dei balocchi, se è vero che come da una ricerca del gruppo editoriale L'Espresso è emerso negli ultimi giorni, nel 2016 sono stati spesi 66 milioni di euro nei comuni del Vallo di Diano alle slot machine. Non solo, io credo che questo dato, se è ufficiale per quanto riguarda le slot machine, non può essere attendibile, perché? Perché c'è un sommerso che è impossibile da verificare, perché noi parliamo delle slot, la statistica parla delle slot machine, però non dobbiamo dimenticare i grattevinci e tante altre cose che ovviamente non possono essere conteggiate. Il problema qual è? Che probabilmente è la crisi che spinge molte persone a darsi a questo tipo di attività, con la speranza di risolvere determinati problemi. Io ricordo molti anni fa, in occasione di un viaggio in America, ad Atlantic City ci portarono a visitare uno di questi luoghi magici del gioco e proprio entrando nella sala delle slot machine, io cambiai 10 dollari, perché più di questo non spendo, e praticamente c'era una signora anziana che si era seduta al centro e giocava contemporaneamente con tre slot machine, una a destra, una a sinistra e una al centro. Cioè si diventa vittime del gioco. È chiaro che, soprattutto per i giovani, questo è un fatto estremamente negativo, così come l'uso dell'alcol e dell'eccesso di velocità. Sono cose su cui bisognerebbe lavorare con delle campagne di informazioni con la speranza che possono essere utili. Vediamo alcuni dati che sono veramente impressionanti. A Sassano, 2788 abitanti, il totale delle giocate è di 13 milioni di euro nel 2016, 2788 euro pro capite. A Padula si parla di 2.347 euro pro capite e a Sala Considina si parla di 1.262 euro pro capite. Sono davvero tanti soldi? Sono tanti soldi, sono cifre che non hanno bisogno di commento. Io credo che magari, per carità, non ascoltando noi, ma leggendo queste cifre, chi è vittima e che è del demone del gioco possa darsi una regolata. Di più purtroppo noi non possiamo fare. Ecco, proprio recentemente Sala Considina ha approvato in Consiglio Comunale un provvedimento proprio per cercare di arginare questo fenomeno. Però c'è un comune che si distingue dagli altri. È piccolo, è un comune piccolo e non fa propriamente parte del Vallo di Diano, è limitrofo, però il comune di Pertosa, dalla ricerca condotta dall'Espresso, non ha nessuna slot machine nel proprio territorio. Un applauso al Sindaco a questo punto. Una mosca bianca. Una mosca bianca e quindi questo ci fa piacere, anche perché Pertosa devo dire questo, che voi per merito del Sindaco, voi per l'impegno che è profondo e per rilanciare anche da un punto di vista il turismo, il Presidente del Mida, il Dottore Dorilia, è un Paese che ha sempre avuto degli ottimi amministratori. Un tasto per te molto caro e forse non lo so, vediamo se è dolente, la sanità nel Vallo di Diano. Che anno è stato per la sanità valdianese? Teniamo conto che c'è stata anche la visita del Governatore De Luca negli ultimi mesi, tu tra l'altro hai avuto l'occasione proprio di coordinare la conferenza stampa con De Luca. Potremmo passare alla seconda domanda? No, questa la dobbiamo affrontare. Premesso che da oltre un anno non mi occupo più dell'ufficio stampa dell'Asla, la presenza di De Luca è stata salutata positivamente anche perché ha assunto degli impegni, però siccome il diavolo fa le pentole ma a volte dimentica di costruire i coperchi, che cosa succede? Succede che dopo un mese, un mese e mezzo dalla venuta di De Luca scoppia la polemica per quanto riguarda i lavori da realizzare negli edifici che ospitano gli ospedali. Ed è notizia di una settimana fa, la venuta è venuta per fare gli auguri ai lavoratori, ai dipendenti ospedalieri e questo va anche salutato con favore il direttore generale Antonio Giordano, il quale rispondendo alle accuse che venivano mosse alla Asla e al Presidente De Luca di avere trascurato il ballo di Diano, ha detto chiaramente che i fondi utilizzabili per questi lavori non erano fondi regionali, né tanto meno dell'Asla, bensì erano fondi dello Stato, per cui lo Stato ha dato questo pacchetto alla Regione e ha detto sostanzialmente, ripeto adesso ti faccio un breve sondo, ha detto sostanzialmente i fondi vanno a quelle strutture che sono cantierabili, a quei lavori che sono cantierabili. Purtroppo per quanto riguarda l'ospedale di Polla non c'erano, non ci sono evidentemente progetti esecutivi. A questo punto però la domanda direbbe un noto presentatore di qualche decennio fa, chi avrebbe dovuto fare questi progetti esecutivi? Qui non ti so rispondere, anche perché è vero che le strutture, se non vado errato, non sono dei comuni, però i comuni, ho visto per esempio a Sant'Arsenio qualche anno fa che il comune collaborava con l'Asla per fare questi progetti quando si è trattato di mettere a norma determinate cose, però più di questo non posso dirti. Il problema è un altro, però è chiaro che non dobbiamo dimenticare che quella della sanità è una crisi che viene da lontano, sono 15 anni che non si fanno concorsi, per cui è chiaro che la sanità la fanno i medici soprattutto, è chiaro che se non ci sono medici, dobbiamo dire questo, che l'ospedale di Polla oggi si regge grazie alla benegazione dei medici che ci sono, molti dei quali sono del Vallo di Diano. Se i concorsi non saranno fatti in tempi brevi dovremmo chiederci qual è il vero futuro di questo ospedale, ma dovuto più che altro alla carenza di… perché la collocazione geografica dell'ospedale lo salva sostanzialmente. Benissimo, e allora Geppino, noi adesso ci salutiamo, ma soltanto per qualche istante e ci ritroviamo tra poco. Bentornati a Casa Italia 2 in questa prima puntata del 2018, grazie al giornalista Geppino D'Amico stiamo ripercorrendo alcuni degli avvenimenti del 2017. Geppino 2017 che sicuramente ha avuto tra i tanti dati purtroppo negativi anche quello che riguarda la violenza nelle donne, anche nel Vallo di Diano. Nel primo anno, per dare un'idea di questo fenomeno che è presente anche nel nostro territorio, ci sono state circa 80 le denunce effettuate presso il centro antiviolenza a Retusa. Beh, qui c'è da dire che ho fatto lo stesso discorso per le slot machine, c'è un sommerso perché non tutte le donne denunciano, quindi è facilmente ipotizzabile che ci siano altri casi di violenza magari non. La cosa grave è questa, che la maggior parte delle violenze si verificano nelle mure domestiche e quindi non so se è una carenza culturale o che cosa sia, però è stato di fatto. Dando bisogna dare atto a chi lavora nel centro a Retusa di lavorare bene, anche se le precedenti disoccupate, nel senso che vuol dire che non ci sarebbero questi avvenimenti, quindi dato atto alle professioniste che lavorano lì, che fare? Anche in questo caso bisogna creare una nuova coscienza. Ecco, vedi, in quest'anno, proprio i mesi fa, è scomparso un grosso personaggio, Don Antonio Riboldi, lui è un signore Antonio Riboldi, ma lui voleva essere chiamato Don Antonio Riboldi. Io ho avuto il piacere e la fortuna di intervistarlo negli anni Ottanta, in occasione di un convegno sulla droga, altra piaga sociale dei giovani di Ordi, e io dissi che fare? E lui mi rispose telegraficamente, facciamo uomini veri e finirà la droga. Ecco, io dico, facciamo uomini veri, facciamo donne vere e finiranno anche le violenze, perché poi non dobbiamo dimenticare che qualche episodio di stalking lo subiscono anche i maschietti, insomma, allora io dico, quando parlo facciamo uomini veri, significa anche facciamo anche donne vere e finiranno questi problemi, credo che occorre una nuova presa di coscienza, una nuova presa di cognizione anche di questo fenomeno. Ecco, presa di coscienza che invece il Vallo di Diano dimostra di avere, almeno per il tema che riguarda l'accoglienza, perché sappiamo che il 2017 è stato caratterizzato da un continuo esodo di migranti in Italia e tantissimi di questi migranti che sono poi sbarcati al porto di Salerno, sono stati accolti proprio nel Vallo di Diano. Beh, qui bisogna dare atto anche al nostro Vescovo, Monsignor Antonio De Luca, di essersi, di averci messo la faccia, come si dice in gerico, su questo problema. Il problema è quello della regolamentazione, perché diciamo che l'accoglienza non deve essere fino a se stessa, ma deve avere anche un qualcosa che avviene dopo. Basti pensare, per esempio, alla fine dell'estate c'è stato un torneo di calcio con il fatto di queste squadre. Insomma, ci possono fare tante iniziative e è positivo il fatto che diversi comuni del Vallo di Diano abbiano sottoscritto proprio dieci giorni fa, credo, a Napoli, alla presenza del Ministro Minniti, il decalogo dell'accoglienza. Insomma, questo è un fatto positivo perché è anche un modo per evitare che poi succedano certe cose, perché dobbiamo partire da un dato di fatto che chi lascia il proprio paese non lo fa mai compiacere, secondo me. Poi figuriamoci poi in quei paesi dove ci sono ancora delle guerre, ci sono delle rivoluzioni, delle sommostre e chi più ne ha più ne metta. Vedremo che succederà in quest'anno. In questo contesto c'è da rilevare però che non tutti sono d'accordo e in effetti proprio alcuni giorni fa c'è stata l'apertura di noi con Salvini nel Vallo di Diano e quindi che ovviamente porta con sé un tipo di riflessioni diverse nei confronti appunto di questo fenomeno. Mi viene da sorridere pensando a quello che diceva, non mi meraviglia quello che Salvini dice di questi esoli, che sono delle proprie esoli. Mi viene da sorridere pensando a quello che diceva Salvini di noi meridionali. Certo ricordiamoci che cosa è successo la prima volta che venne il suo Deus Ex Machina che poi è stato messo da parte Bossi quando venne a Napoli a mangiare la prima pizza Margherita. Quindi voglio dire è chiaro che ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Ecco, restiamo in tema politico. Quest'anno è stato caratterizzato da tre rinnovi amministrativi nel Vallo di Diano. Nel mese di giugno si è votato a Sanza dove è stato eletto Vittorio Esposito, a Buonabitacolo dove è stato eletto Giancarlo Guercia, a Sant'Arsenio dove c'è stato il ritorno di Donato Picca. Come valuti? Allora, intanto un rafforzamento del centro-sinistra perché a Sanza c'è un sindaco di ispirazione diciamo di centro-destra mentre è tornato Vittorio Esposito che ovviamente è uomo di sinistra proprio. Stesso discorso per Sant'Arsenio, centro-sinistra con Donato Picca. Credo che anche l'amico e collega, neosindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercia, credo che possa avere una collocazione di centro-centrista o di centro-sinistra. Quindi c'è un rafforzamento del centro-sinistra. Però che cosa succede? E qui è il gatto che si morde la cosa. Alle amministrative il centro-sinistra è forte. Quando poi si va a valutare le politiche il primo partito era sempre quello di Berlusconi. Adesso però c'è la variante dei 5 Stelle e di noi con Salvini che comunque noi con Salvini si appoggia al centro-destra mentre i 5 Stelle orgogliosamente vogliono viaggiare da soli. Vedremo che succederà nel Vallo di Diano anche se i primi risultati per i 5 Stelle non sono stati così come forse era lecito attendersi, forse per la mancanza di una presenza massiccia nelle amministrazioni locali. Poi molto dipenderà anche da chi saranno i candidati. Questo è tutto ancora da scoprire. Lo vedremo insieme. Invece sempre restando in tema amministrativo l'anno prossimo c'è un appuntamento che poi coinvolge anche te come cittadino di Polla. Perché si voterà a Polla e Atena-Lucana? Sì, si voterà a Atena-Lucana. Credo che possiamo dare per certo la ricandidatura dei sindaci uscenti, Rocco Giuliano e Pasquale Iuzzolino. Per quanto riguarda Polla è evidente che se ci saranno... A Polla è successa una cosa che non era mai successa. Per la prima volta, nelle ultime amministrative, ha votato meno del 50%. Paradossalmente, se ci fosse stata una sola lista, le elezioni sarebbero state ripetute. Invece per la prima volta Rocco Giuliano è stato eletto con un'elezione minoritaria, diciamo così, legittimamente eletto, per carità, perché la legge lo prevede quando ci sono... Il problema di Polla è che forse ci sono troppe liste. E ovviamente la presenza di due o tre liste, se non addirittura quattro, come l'ultima tornata amministrativa, finisce col favorire chi amministra. Insomma, questo è un dato di fatto. E allora Geppino, parliamo anche di cultura. Parliamo di cultura nel Vallo di Diano e ovviamente non possiamo fare un riferimento, quando si parla di cultura, quando si parla anche di potenzialità per lo sviluppo turistico, un riferimento a quello che è stato un tema molto forte nell'ultimo periodo, quello della Certosa di San Lorenzo a Padula. Un tema sulla gestione di questo monumento che ricordiamo la polemica che è scaturita anche da un attacco da parte del direttore della Banca Montepruno, Michele Albanese. Comunque dobbiamo anche rilevare che sulla gestione della Certosa di San Lorenzo sono state numerose le voci che si sono alzate. Vorrei citare anche il nostro collega Aldo Bianchini che sulla Certosa di Padula ha fatto numerose inchieste. Allora, io ho molta stima, mi onore della sua amicizia personale, dell'attuale direttrice. Però il problema è questo, che la direttrice è stata messa a fare, ma non è stata mai messa in condizioni di poter gestire perché per carenza di fondi basta vedere che non ci sono i soldi per sistemare i giardini, giardini che furono risistemati negli anni 80-90 da un professore Tagliolini, un professore universitario venuto da Brescia che ha fatto dei giardini straordinari riportandoli all'antico splendore. È chiaro che la Certosa non appartiene soltanto al comune di Padula, la Certosa è patrimonio Unesco, per cui la partecipazione innanzitutto degli altri comuni, io la vedrei come un fatto positivo, ma non perché debbano essere gli altri comuni, cioè mettere la Certosa nelle mani di chi può dare effettivamente una mano. Ecco, questa è la mia modesta opinione. Ecco, il contenitore Certosa per dire che probabilmente non è sfruttato bene. No, ma c'è da dire questo, io ricordo nel 1888 quando venne in visita alla Certosa Ruggero Bonghi, che ancora oggi è considerato uno dei migliori ministri della pubblica istruzione che l'Italia abbia avuto, disse queste parole in gergo antico ovviamente, facciamoci a dirlo chiaro, edifici così vasti non si mantengono, che vi si spenda se non si usano. E allora la prima cosa da fare, la prima domanda a cui dare una risposta è questa, che vogliamo fare della Certosa? Solo una visione turistica oppure anche qualcosa di economico? Per esempio riportarci, che dire, la scuola di restauro per esempio, vista le tante opere che ci sono, vista le centinaia di opere del Cilento e del Vallo di Diano che sono state lì restaurate dopo il terremoto del 1980? Ecco, questa secondo me è la prima domanda a cui bisognerebbe rispondere. Poi magari anche organizzare qualche mostra che non sia soltanto una mostra di arte moderna. Qua è meglio che ci fermiamo. D'accordo, ci fermiamo e ci ritroviamo tra poco. Bentrovati, gentili telespettatori, prima puntata di Casa Italia 2 di questo 2018 in compagnia di Geppino D'Amico. Geppino, parliamo di possibile sviluppo del Vallo di Diano durante quest'anno, quale potrebbe essere? Qualche idea per il rilancio di questo territorio e per il suo sviluppo? Ma intanto sfruttare le opportunità che le leggi danno, perché io ricordo, scusami questa visione personale, io ricordo, avendo fatto giornalismo già all'epoca, che Enrico Quaranta, sindaco di San Pietro, parlamentare e poi sottosegretario, la prima cosa che faceva la mattina, prima di leggere i giornali, leggeva la Gazzetta Ufficiale. Non so quanti amministratori lo fanno oggi, credo pochi, perché le leggi ci sono e che non vengono sfruttate. Per esempio, so che proprio da Sant'Arsenio sta partendo un'iniziativa per quanto riguarda una legge che prevede l'istituzione di zone franche che privilegia i piccoli comuni. So che l'editore di queste emittenti in qualità di imprenditore è partito con questa iniziativa, d'accordo con altre persone che sono in grado di dare una mano, come per esempio l'architetto Nicoletti, che per anni è stato il primo direttore del Parco Nazionale a loro del Cilento e Vallo di Diano, poi sono venuti gli Alburni, eccetera, e che è stato anche direttore del Parco del Gran Sasso e Nicoletti sta lavorando lì, proprio in quest'ottica qui. Credo che la stessa cosa si potrebbe fare qui, perché il problema è questo, la gente si lamenta del Parco perché ci ha portato solo i vincoli, ma un'altra domanda da fare agli amministratori è questa, ma che cosa abbiamo fatto come Vallo di Diano, come Cilento, eccetera, per sfruttare le opportunità che il Val, al di là delle cosiddette sagre estive, eccetera, eccetera, quindi io credo che una buona analisi di quello che vogliamo fare del territorio, credo che sia molto importante e questo per esempio ci riporta al problema della città Vallo, cioè quando questo progetto in prima stesura fu presentato negli anni 70 e fu dato in carico al professore Portoghesi di redigere un progetto, intanto Portoghesi si ispirò a Tucidide perché possiamo dire quello che vogliamo Antonio, ma un popolo che non conosce la propria storia è destinato a riveverla. Portoghesi partiva da Tucidide, partiva da Atene, partiva da questa città meravigliosa che è stata Atene, che è stata la culla della cultura, allora il problema qual è? Il problema oggi che si riparla di questi, però vedi che non riescono a partire, bisogna dare atto a Carmelo Bufano, a Sua Eccellenza dell'impegno profuso per fare questo, però adesso c'è un altro problema per esempio per quanto riguarda la città Vallo, è giusto che si vada al referendum, perché l'hanno chiesto i cittadini, lo prevede la legge, è giusto che la regione indica il referendum, però io a sentire quello che mi hanno detto alcuni cittadini, non li nomino perché, però la maggior parte, anche amministratori di anticomprensoriali, che dicono questo, è impensabile andare a votare con il quorum previsto così com'è, cioè non c'è il quorum strutturale, che cosa significa? Che per le elezioni comunali, abbiamo detto prima, per essere valide, se c'è una sola lista ci vuole il 50% più uno degli aventi diritto al voto che vanno alle urne, in questo caso il quorum strutturale non c'è, per cui se noi consideriamo, dico una cifra a caso, 70 mila abitanti nel Vallo di Diano, di cui 50 mila che hanno diritto al voto, almeno 25 mila più uno devono andare a votare, invece non è così, perché la legge regionale del 75 prevedeva che ci voleva il quorum degli aventi diritto al voto, rispetto agli aventi diritto al voto, mentre invece poi, 3-4 anni fa, in occasione della legge di bilancio per un altro referendum, la regione campania ha cambiato questo e i sindaci a questo non ci stanno, per cui sono sicuro che almeno in quest'anno, visto che il progetto è addirittura di arrivo in Consiglio regionale, credo che i sindaci faranno di tutto per non votare quest'anno, almeno fino a quando non si cambierà la legge. È una previsione, non dico che sono contrario, per carità, però ti dico quello che è il mio pensiero di osservatore di questa delicatissima vicenda. Perché poi a parole i sindaci sono quasi tutti d'accordo, però poi vediamo che dietro ci sono delle lotte magari per proteggere il proprio... Un calciatore a 35 anni appende le scarpe al chiodo, i sindaci se passa il progetto così com'è dovrebbero appendere la fascia di 15 fasce al chiodo perché ne resta una sola, su 14 ne resta una sola. Geppino, che anno è stato per il giornalismo? Un anno, lo sappiamo... Un anno molto vivace, un anno molto vivace, il giornalismo è cambiato perché non è più quello di quando le notizie venivano portate dai piccioni viaggiatori, oggi le notizie viaggiano via web e questo ha fatto sì che cambiasse tutto. Perché? Perché noi eravamo un popolo di poeti, santi e navigatori, i santi non ce ne sono più perché nessuno decide di votarsi all'eroismo o al martirio e qui abbiamo un popolo di giornalisti. Basta vedere che cosa si legge su Facebook e sugli altri social, per carità, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee, è giusto che lo faccia liberamente, però non lo so se siamo troppi, siamo pochi, io vi giro fuori perché io sono un vecchio ornise del giornalismo, quindi forse per questo il collega Sica mi ha invitato nella sua trasmissione e lo ringrazio, ma proprio per essere un vecchio ornise ne ho viste tante e credo che ne vedrò ancora pur restando fuori dalla cronaca, perché come tu ben sai negli ultimi vent'anni ho fatto prima il responsabile dell'ufficio stampa della ex asla Salerno 3 di Vallo della Lucani e poi ho fatto parte dell'ufficio stampa della Asla di Salerno. Mi auguro che i giovani che vogliono diventare dei grandi giornalisti possano farlo ovviamente in modo libero, ma soprattutto guardando all'etica professionale, perché ci sono delle cose che i giornalisti dovrebbero fare, ottemperare gli obblighi della carta di Treviso, che riguarda la violenza sui minori, la carta di Roma, la carta di Venezia, cioè carte che prendono il nome dalla città dove sono state ovviamente approvate dall'ordine dei giornalisti, magari insieme ai vari ministeri e un po' di tranquillità soprattutto, credo che mi auguro che questo nuovo anno porti un po' di pax giornalistica perché forse c'è stata qualche polemica di troppo, a volte strumentale, ma soprattutto inutile. Benissimo Geppino, siamo in conclusione di questa nostra chiacchierata e allora di cosa vogliamo parlare o cosa vogliamo augurare ai nostri telespettatori? Forse dovremmo parlare di felicità. Beh, mi fa piacere questa domanda perché? Perché vedi il concetto di felicità, ovviamente auguri, lo faccio adesso perché fra poco sarò tagliato per motivi di spazio immagino, il concetto di felicità è un concetto molto antico. Pensa che il concetto di felicità noi lo troviamo nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America approvata nel luglio del 1776, approvata il 2 luglio, poi è entrata in vigore il 4 luglio, tant'è che il 4 luglio in America è festa nazionale. Che cosa diceva, si legge nel prologo della dichiarazione di indipendenza? Tutti gli uomini sono dotati dal creatore di certi inalienabili diritti tra i quali la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Ma la cosa incredibile è che questo concetto, che è ben saldo nella cultura americana, è nato a Napoli. È nato a Napoli in quegli anni con un grosso pensatore che è stato Gaetano Filangeri nella sua scienza della legislazione. E' stato il primo a parlare, l'uomo ha diritto alla felicità. Ecco, quindi voglio dire, il fatto che questo concetto sia nato nel Sud, ma era il frutto però, era il frutto del pensiero illuministico napoletano. Per cui, voglio dire, è molto bello vedere che è un uomo di cultura. Perché poi il concetto, diciamo, trasferito in America, il merito fu di Benjamin Franklin, che era in contatto con Gaetano Filangeri. E io che sono un modesto artigiano della ricerca storica, sono molto contento di questo. Ed è quindi con questi sentimenti che, se mi consenti, vorrei rivolgere a tutti quanti, tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di ascoltarci fino alla fine, i migliori auguri per un 2018 ricco, ricco di felicità. Perché poi la parola felicità dice tutto. Se un uomo è felice vuol dire che ha le cose necessarie per essere felice e per andare avanti. E allora, gentili telespettatori, l'augurio è quello di tanta felicità in questo 2018, da parte di Geppino D'Amico, da parte di Antonio Sica, da parte di tutta la redazione di Italia 2 TV, da parte ovviamente anche dell'editore. Felicità a voi e alle vostre famiglie. Appuntamento alla prossima puntata di Casa Italia 2. Grazie a tutti.